bravissima la signora e allora lei deve venire a casa mia a parlare e dove state? chi ci vengono? a traietto a traietto bravo allora lei dov'è? di Cassino ah ok allora buona vita siamo dello stesso regno san germano siamo dello stesso regno pure qua lo era da teramo fino a Malta era regno del 26 bravo io ho associazione si bravo l'ho ripreso hai visto i video che ti ho messo? hai visto i video che ti ho messo? eh si di qua li ho messi io li ho mandato Luciano Troiano Luciano Troiano li ho mandati a lui state sul blog mio ah capito io c'ho il blog signora ah ecco altateradilavoro.com ah ok com'è l'ho signora? altateradilavoro.com 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 facile la terra di lavoro è la provincia più antica d'Europa che i giacobini hanno cancellato che il morto è 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 Grazie a tutti.